figli miei sono vostra madre vengo dal cielo per guidarvi al cuore di mio figlio gesù che arde d'amore per voi tutto ciò che ho rivelato nel passato si sta avverando nel presente nel vostro tempo leggete e meditate la parola di dio tutto è contenuto in essa la lotta tra il bene e il male le grandi prove da sopportare per amore di dio le grandi trasformazioni che subirà tutta l'umanità ricordate figli miei il signore non realizza nulla senza prima liberarlo ai suoi profeti dio vi ha avvertiti molti anni fa che avreste dovuto vivere in una vita santa e più pura e convertire le vostre vite al suo amore aprendi i vostri cuori ai suoi divini appelli le chiamate di dio sono sante e molti le disprezzano un giorno quelli che oggi che sono gli schernitori miscredenti saranno gli afflitti che piangeranno amaramente domani i tipi caragua ammazzonia edison glaubert 29 giugno 2019 e e e e e e